come le loro origini di Rosario Lullo, la scatola greca, suonano il maestro Lullo e il piccolo Entoni. E come vedrete, sì, è una esaltazione della famiglia in una armonia vera e propria che emerge grazie alla passione per la musica di... Rosario Lullo con la scatola greca e suonano per l'appunto il maestro Lullo e il figliolo Entoni. Accogliatevi. Buon ascolto. Un bel applauso a tutti. 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 Un bel applauso a tutti.